Sono Zibaldo, l'unica app completa di tanti servizi di pagamento. Scaricami, sono gratis. Zibaldo, come me non c'è nessuno. Il legnago del debuttante Mr. Colella mette il dito nella crisi del Fano, alla seconda sconfitta nelle ultime quattro partite. Il 3-0 dei Veneti matura in poco più di mezz'ora e alla fine il presidente Granata fattò Fidani, con i suoi mai in partita, chiede scusa ai tifosi. Destro è senza Montero e Santarelli e ne cambia 5 rispetto all'1-1 con la fermana. Si capisce subito che sarà un pomeriggio durissimo per il Fano. Il primo squillo è di Bulevardi, Viscopo devia in angolo. Poi il primo gol del legnago con Bondioli a dama al secondo tentativo. Ecco il 2-0. Lazarevic appoggia per Shakir. Viscopo ci mette una mano, ma non basta. Il tris lo firma lo stesso Lazarevic. Al trentatresimo, gara di fatto chiusa. Il Fano finalmente si fa vedere in avanti con il neo entrato Nepi, che non riesce a girare di tacco un buon pallone. Nella ripresa l'Alma tenta di scuotersi con Flore Satelli, ma il suo tiro dal limite è da dimenticare. Dopo ci prova dalla distanza anche Marino. Quindi l'occasione Granata più ghiotta. Cross di Monti, testa di Flore Satelli. Pizzignacco si supera. Nel finale il gol annullato a Nepi. Il Legnago torna al successo dopo nove giornate. L'Alma invece digiuna da un mese e si è quasi fatta raggiungere dai Veneti. Ora ha un solo punto dai Granata.